Sono sereno e tranquillo, credo di aver spiegato tutto, sono molto fiducioso in una conclusione positiva della vicenda, ho piena fiducia della magistratura, credo di aver spiegato l'equivoco. Sono queste le dichiarazioni del vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore allo sviluppo economico Alfredo Castiglione al termine dell'interrogatorio dinanzi al GIP del Tribunale dell'Aquila Marco Billi. Castiglione è stato ascoltato nell'ambito dell'inchiesta a Caligola su presunte tangenti sotto forma di assunzioni in alcuni bandi sull'informatica per il programma di cooperazione IPA Adriatico. La scorsa settimana il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Antonietta Picardi, aveva chiesto al GIP l'interdizione dei pubblici uffici per Castiglione, provvedimento che, se accolto, costringerebbe lo stesso vicepresidente a dimettersi dal suo incarico di giunta. Nel merito, ha aggiunto il vicepresidente della Regione, con tutte le riforme che sto facendo, non sto certo a pensare alle referenze per un protocollo culturale con l'Albania senza scopo di lucro, che poi non si è fatto. Credo che i giudici abbiano capito la mia buona fede, non a caso abbiamo spedito la referenza per raccomandata, quindi alla luce del sole, e l'avrei fatto non solo alla loro mia fidanzata, ora ex, ma anche se non ci fosse stata di mezzo la mia compagna. Dall'Albania mi chiedevano solo se questa associazione operava ed esisteva. Dopo questo interrogatorio, la decisione del GIP è attesa entro 4 o 5 giorni, ed in questo periodo i legali di Alfredo Castiglione produrranno altre memorie difensive. L'inchiesta a Caligola è esplosa lo scorso mese di gennaio ed il vicepresidente della Regione è indagato perché, secondo l'accusa, avrebbe condizionato una gara d'appalto da quasi 100.000 euro per favorire il socio della SRL Cyborg, Corrado Troiano.